insigne adesso basta insigne adesso ti accomodi in panchina i pallonetti li fa lì nella panchina ma ti rendi conto che stai perdendo la testa sei un malato mentale ma lo vuoi capire lo vuoi capire ogni partita ci ha da stare sempre a questo momento in cui vuole fare dei pallonetti il problema è che sto 2 a 0 per loro nel primo tempo si recupera una palla in attacco superiorità numerica ti arriva la palla a te con quella penso milic che stava dicendo bastava che ci arriva la palla quello che era gol e ci apparavamo pure la partita e invece no cosa fa fa un pallonetto che fai fai tecchia con sti pallonetti un pallonetto ridicolo che non ti riesce mai e ogni domenica fai questo e non me ne parlare dell'anno scorso che a san siro dopo un'ora di di possesso palla finalmente avevamo trovato la grande occasione dove avevamo piazzato davanti a dandanovic posizione del rigore dovevi andare o a destra o a sinistra nell'angolo cosa fa il pallonetto ma tu si cretina proprio ma io non l'ho capito sta cosa e questo stai facendo qua tre partite tre pallonetti fuori luogo tre tentative no pallonetti fedecce allo stato puro tu sei una vergogna stai diventando una vergogna ma com'è possibile un giocatore ma dio santo che avrebbe delle qualità perché non sei l'intelligenza la visione del gioco ce l'hai poi restasi scema non ci sta niente da fare uno che fa una cosa del genere non è una persona sana di mente tu devi fare la cosa giusta la cosa giusta la cosa giusta tu non puoi inventare una cosa del genere signori per piacere levatemi ad insigne davanti insigne panchina vedete che è successo con ancellotti ora che abbiamo si scoprono gli altarini la squadra di sarri è scomparsa o sta scomparendo comunque perché oramai disorientato ovviamente la squadra è la stessa e però in tre anni non abbiamo mai visto queste situazioni siccome cambi devi per forza cambiare il gioco ancellotti prendi la squadra falla giocare uguale l'anno scorso giocate voi quello che sapete dovete giocare uguale è inutile che stiamo a cambiare affare perché perdi tutto il valore di tanti giocatori tipo insigne che a un certo punto valgono 100 da capo a loro 100 milioni il barcellona vuole fare insigne è un giocatore massimo da 25 milioni chiuso avrebbe delle delle caratteristiche di intelligenza particolari però c'è anche una percentuale altissima di stupidità e lo dimostra continuamente con questi questi momenti che vuoi fare ma che vuoi fare con questi pallonetti è una cosa assurda 25 milioni ultima offerta per insigne non di più abbiamo giocatori come i sai i sai non sono giocatori di buon rendimento ma fino a un certo punto non tu fanno insomma non dà secco un grosso non fa niente e sai sai è un giocatore non da grande squadra lo diventava nel napoli di sarri sarri magari era fondamentale ma se tu hai levato di mezzo il napoli di sarri oramai o giochi uguali a sarri e rivaluti sti giocatori ci guarda fai così non cambi e fai stare con leone insigne fai i soliti fatti con leone alla insomma altrimenti la squadra diventa una mezza e mezzo ma insomma vi rendete conto di questa cosa ma comunque non ne voglio proprio parlare l'unica cosa buona che comunque il secondo tempo io ho visto una reazione di grinta io l'ho grinta l'ho vista e quindi onas è entrato certo quello ci ha delle caratteristiche particolari l'avrebbero dovuto sfruttare proprio queste sue caratteristiche qualcuno un po più vicino perché stava un po isolato in questi suoi in questi suoi scatti sulla fascia destra poi sbagliava però il cross ecco non è comunque certo è un giocatore che le qualità ce le ha però insomma sostanzialmente la grinta c'è stata all'anna grande come al solito è diventato un regista la stava facendo un regista lanci notevoli però noi ci siamo scontrati praticamente il napoli si è scontrato contro sarri che è una versione di sarri che quella di giampaolo quindi si è trovata a subire la legge di una squadra che a un certo punto non ti fa giocare ecco ti vedi e ti è il campo l'ha coperto alla perfezione non ci stava un attimo di non c'erano spazi eccetera problemi grossi io spero che l'unica cosa che ancellotti insigne via in banchina perché i giocatori ce l'abbiamo e non possiamo stare appresso ad insigne quindi mertens i caleon abbiamo tanti giocatori non è che dobbiamo aspettare che il primo tempo insigne ma poi fa queste cose poi ogni volta che fa un mezzo dribbling metti il piedino così o giochi al cento per cento o stai con la testa bene non di permettere mai più di fare cosa assurda che vuoi fare ma lo sai tu ma dai sogni della notte ma che cosa vuoi fare nel momento cruciale ogni domenica ogni domenica ogni domenica con la lazio e l'ha fatto sull'1 a 0 la lazio ma dopo per fortuna abbiamo rimontato ma non lo puoi fare colmina l'ha fatto pure una cosa stranissima stava sulla dire una cosa che nessuno se n'è accorto probabilmente ma voleva fare un pallonetto tutto campo volevo fare lo sentite oggi ma è proprio irritato insigne ancellotti anzi non parlo proprio più ancellotti caccialo fuori a ste insigne glielo devi dire senti insigne tu così non va bene non di permettere mai più di fare questi pallonetti nel momento cruciale invece di dare la cura davanti al portiere comunque sono guai seri speriamo che da questa cosa ne sorga una buona una reazione sia ancellotti ha capito guarda che la cosa non va bene qua a difesa prendersi gol mettetevi d'accordo c'è ancellotti mo c'hai due settimane vedi i giocatori buoni mettetevi d'insegna in panchina vedi a chi deve giocare mertens deve giocare sempre tutto queste sono le cose vedi come devi fare perché così non va arrivederci